prendi a pugni il frigorifero, così, così, così ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale prima missione di GTA 4, The Ballad of Gay Tony è l'ultimo capitolo di questa serie, che siamo partiti con GTA 4 per poi passare del Lost and Hamnet e per poi concludere con, appunto, The Ballad of Gay Tony, la prima missione I love Elsie, comunque, like, iscrizione e campanella quello rimane sempre anche dai vecchi tempi di GTA 4 noi andiamo con il nostro Luis Lopez questa scena ve la ricorderete sicuro Trilift Clover, storia principale fatto, nessuno vi sente adesso gli spara e viene ucciso allora, lo spoiler lo sapete, dai what to do boom Michael il santo Michael the santa no, niente, era solo una riflessione personale ok yeah, like I said, man, everything's a little fuzzy well, if you think of anything else, Mr. Lopez sure, sure, I'll give you a call thanks ma che chopper, ma che Russia, ma che cugini che ci invitano a giocare a Boonigoni 3x2 capite perché è il mio mondo preferito a questo? Nico! la fuga ok, so wake up la fuga, la la banca Johnny giustamente, tutti e tre, bellissimo, adoro and mami comenta mi non, i was working late in the club mami non be like that ok, i'll be home soon Tony Prince Che li vedremo anche in GTA V se non vado errato Oh, how are you? I'm good boss, how are you? Oh, you look terrible That's good, because I am terrible, fucking wrecked What's wrong? Oh, the usual, boyfriend thinks I'm a cash machine One nightclub catering to the rich, mindless crowd And the city with the rich, mindless crowd is suddenly poor and mindless Another club catering to the gay and decadent crowd But the gay and decadent crowd suddenly think Decadence means buying outrageous new throw cushions Instead of getting loaded in a bar And every half-wit, part-time hood in this city thinking, I know Let's put the squeeze on the club owners They must really, really want to substitute my inadequacies with their money Because after all, they want to stay up all night talking bullshit to morons Because they enjoy it Sounds pretty usual Tell me, thanks for the support Hey, that's what I'm here for, boss Yes, you know, if the bodyguard, business partner thing doesn't work out You should consider a career as a fucking lifeguard What? Never Troy Yeah, he said he loves you, but he can't handle it Abbia scatti, quello proprio non va mai via Who's laughing at him? I don't know, I think the little people who live in his head The one stuck in 1955 Oh, I love those people And what's up with Desi? He said he saw you last night Yeah, and he was holding court with that Chloe Parker Until 4am I was? Apparently so My God, 45 years old I get my kicks doing blow with 17-year-old kids His only claim to fame Is that people know better what their vagina looks like than their face I should be stupid Should know Yeah, most definitely What's this money? Did you have your own club? Tony, I just went to the bank for you, man I don't want it in the bank Hey, Tony The door is open, man Rocco Pelosi E Ancelotti, credo Here I am so sure Oh, I love getting racially abused by a spick Yeah, who's a fucking taco, Tony? My business partner, Luis Gentlemen, watch your language We're in the great melting pot We're not spicks Or guidos Or fags We're proud Americans Luis, this is Vince and Rocco Relatives of Gracie Vince, no Ancelotti, ok Gracie Ancelotti, però, sì Diamonds are the girl's best friend That's a start I guess we don't have to beat you two lovers up See you later Oh, nice to meet you, muscles Fuck, there goes payroll Who the fuck were those two assholes, T? Fine men of the class Who the fuck do you think they are? Sacrist Come on, let's get out of here, let's go Va bene, dai Facciamo partita prima missione, dai Cos'ha been hypnotized by the lights Non so perché c'ho a mente questa canzone, però, vabbè Oh, che bello Prima missione è sempre portare qualcuno dal punto A al punto B.O. Incredibile I was investing in her industry and acumen Don't look for anything sinister here That's what you say, T But I'm kind of suspicious Maybe when they see that robbery, maybe paranoid And maybe it's just hanging out with you Who the fuck knows Luis Lopez, road warrior Here we are Stai, citova Troy, get over here A very important client is coming tonight We need complete discretion Uh-huh, you know me, Tone Don't ask, don't tell Military grade Hey, this is serious He's paranoid, no one will buy his next CD They know he'd rather be singing cabaret than rapping As if people buy CDs anymore Sure Look, I really need to talk to Tone Blah, blah, blah Another time, Troy We'll be at Masonette Mezzonette, no Ah, tipo qui, vicino, ok No Questo è il nostro club, vero Mezzonette, no All right, Tone Hey, Al I gotta make some calls You work the floor You sing, 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 y'all in your soul We do y'all, we do y'all so I don't make it you like so Tone, right, everybody Tone, shit, everybody Tone, right, everybody Get a grind, just grind, just grind, one time Tone, right, everybody Che topi Si può dire? Uh, interessantissimo Stiamo a ballare con le fighe Andiamo Stata cara di bevuta d'oro Ma posso essere buttato fuori dal mio senso club? Penso di sì Però non ricordo Allora Io in discoteca A parte che tipo è piccidissima Perché tipo casa mia è più grande Però Io cammino così Quando tipo sono ubriaco O fatto come una pigna Non cammino così Appena entrato Che vuole sto afro qua? Perchè mi sta dicendo di fare queste cose? Comunque Già finito la perlustrazione Ok Che vuole sto facendo? Che vuole sto facendo? Enrique Enrique Qui da Qui da Alla fine Litiga 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 Ce li portiamo a spasso Ok Pardon Che vuole sto facendo? Ha ragione Ha ragione Ha ragione Ha ragione Che schifo i fast food ragazzi Che bello Fare il bullying Che siamo Le spucci bici Anche le spucci bici Quella GTA V Sì Ok Ok Questo sarà definitivamente L'ultimo viaggio Prima della fine Di questa missione Andare all'appartamento Che tipo è qua vicino Arrivati Sì 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 Molto significativo Molto significativo Ma no Non me ne ho accorto Prima missione andata Oh cazzo Ci sono gli obiettivi qua Ve l'avevo detto Che era similissimo A GTA V Nessuno mi credeva Ok Fantastico E' tipo sta merda qua non va via Ok Va via Bene a pugni in frigorifero Così 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 Il microonde Tiene una pisellata sul microonde Sulle tazze Vabbè Io i ragazzi vi saluto Lasciate il like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo per la missione numero 2 Che sarà Pratix Swing E sarà ovviamente per Gay Tony Grazie a tutti Bacione Alla prossima Con Gay Tony E sarà ovviamente per la missione numero 2 Che 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 sarà ovviamente per la missione numero 2